Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come risolvere l'errore OpenGL e ovviamente se hai un vecchio sistema operativo e vorresti giocare a Minecraft e ti esce un errore OpenGL e il problema è la tua scheda video che non supporti questo driver support OpenGL quindi in questo caso anche le requisiti di Minecraft ti dicono che la scheda video integrata deve avere anche questa qui è un Intel Hack di graphics becchissima come scheda video con supporto OpenGL se non hai OpenGL sulla tua scheda video non puoi avviare Minecraft ovviamente c'è una soluzione per risolvere questo problema è quello di scaricare un DLL file come OpenGL però potrebbe funzionare sulle vecchie versioni di Minecraft invece sulle nuove versioni c'è ancora l'errore OpenGL quindi ti consiglio di giocare sulle vecchie versioni di Minecraft quindi in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare questo pacchetto in questo caso se avete problemi con il link c'è il server Discord tu entri nel canale, nel server Discord, chiedi a me e io ti faccio accedere al canale con questo pacchetto quindi questo è il pacchetto RAR tu fai WinRAR Extract to Mesa for Windows estrai questo pacchetto c'è la cartella e OpenGL 32.dll quindi tu fai copia vai su questo pc disco locale su programmi scendi fino a giù fino a trovare la tua cartella Java mi raccomando se dici che non hai la cartella Java allora significa che tu non hai installato Java per giocare a Minecraft quindi in descrizione c'è il link per scaricare Java Java serve per Minecraft serve moltissimo ho seguito un comando Java dove devo andare su Java configura Java eccolo qua questo è Java se in questo caso avete altri problemi c'è aggiorna e puoi anche aggiornare Java per Minecraft quindi andiamo su Java su questa cartella bin e ci butti dentro il file dll continua qui è necessario fornire le autorizzazioni di amministratore per copiare nella cartella ho fatto un tutorial su come avere l'accesso completo del tuo pc quindi come essere amministratore perché se non sei amministratore del tuo pc non puoi modificare questa cartella io faccio continua e ci incollo così opencl32.dll se no puoi mettere questo file qua dentro oppure sempre su questo pc disco locale windows scendi fino a giù fino a sidestem32 e ci metti il opencl32.dll qua dentro oppure vai in sidestem32 clicchi qua sopra io ovviamente ci avevo già messo un file dll se in questo caso non hai il permesso di modificare questa cartella ci ho fatto un tutorial se trovo opencl la ho l'ultima mn mn o ok eccolo qua dove opencl32.dll quindi ripeto se hai problemi con il link entra in server discord chiedi a me ti do l'accesso per accedere al canale e prendi questo pacchetto se hai problemi commenta se ti escono altri errori dimmelo che potrei farci qualche tutorial quindi mi darai anche mi darai anche un'idea per fare un altro tutorial su come risolvere errori su minecraft quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti al canale e speriamo bene che sei riuscito a risolvere questo errore opencl quindi grazie a tutti per questa versione lascia like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao